Musica Con Francesco Gennaro, una delle menti e delle mani del popolo viola di Genova Pilastro Un pilastro, una colonna portante, uno di quei ragazzi che ci mettono la faccia anche il tempo e il nostro grafico di fiducia, nonché PR su internet e un cialtrone come tanti altri Francesco, perché siamo qua stasera secondo te? Siamo qua perché vogliamo sfruttare l'occasione che ci ha dato Michele Santoro di rendere pubblica una trasmissione che è stata censurata da questo governo durante il periodo di campagna elettorale vogliamo dare la possibilità alla piazza, alle persone, di vederla di giovedì sera come era, solito esserci sulla RAI, quindi anno zero e quindi abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa la proiezione pubblica della trasmissione che oltremmo sarà una trasmissione di rilievo in quanto ci saranno ospiti incredibili da Lutazzi, Vauro, Giovanni Floris, presentatore di Ballarò e quindi direi che è una serata da non perdere assolutamente e siamo contenti di aver ricevuto molte adesioni sul Facebook in generale anche di comunicazione sul giornale e quindi speriamo di una grande affluenza l'impegno ce lo stiamo mettendo noi ci staremo sempre a far notare ogni carenza di questo governo ogni minimo segno di staccamento delle libertà che in questo momento stanno facendo dei provvedimenti perché l'uno dietro l'altro non riusciamo a stare dietro praticamente dovremo scendere in piazza una volta a settimana se non una volta al giorno e quindi ci faremo sentire, sono sempre qua ci proviamo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti ovviamente da partecipare a tutti grazie grazie grazie